Ri buongiorno a tutti belli e brutti, ri buona domenica a tutti, mi scuso per il video tagliato video a massimo di 6 minuti e mezzo perché li carico con whatsapp perché il pc è ancora ad aggiustare il pc nuovo non c'è l'entrata per mettere dentro la memoria del telefonino, insomma un casino 6 minuti e mezzo tagliato il video mi dispiace e mi dispiace ragazzi perché quando succedono queste cose mi girano i coglioni e questa qui è la maledizione degli interisti, siccome nel secondo video dovevo parlare dell'Inter adesso devo caricare del coso su whatsapp e carica massimo 6 minuti e mezzo ma è una roba agghiaggiante agghiaggiante, mi raccomando sempre iscrizione al canale, like campanellina, devo fare tutto veloce 20 abbonati, mi raccomando 1950 iscritti, qualcuno di voi si beccherà il regalino, andiamo avanti con il video quesito, di chi cazzo è l'Inter? perché ormai qualcuno ha cominciato a farsi questa domanda di chi cazzo è l'Inter? perché vi dico questo? perché allora la Juventus è di Elkan, il Napoli è di Laurenti, il Milan è di Elliot e la Roma è degli americani, la viola lì è del ciccione, il panzone è lì americano ma l'Inter di chi cazzo è? perché questa qui è una domanda che si stanno facendo ultimamente perché siccome sapete che Zhang è nulla tenente, non c'ha neanche la macchina sua intestata, una roba svizzera, so io, per andare a pignolare qualcuno all'Inter cioè lui non ha neanche la busta paga dell'Inter lui non ha neanche la busta paga perché dicono, eh ma boh ma l'Inter viene pignolata e il 40% è di OCTRI, ho capito, una roba del genere, l'altro è delle banche cinesi sì ma questi qua, su chi si sono avvalsi? perché se quello lì è nulla tenente però l'hanno portato in tribunale, se questo qui è nulla tenente come cazzo poi? allora se, ma è lui che si è fatto prestare i soldi, giusto? è lui, no? è Zhang che si è fatto prestare i soldi perché gli hanno fatto causa a lui però lui è nulla tenente, allora di chi cazzo è l'Inter? le scatole, le scatole cinesi, no? no? la matrioska, la matrioska dentro la matrioska, dentro la matrioska, dentro la matrioska lì ragazzi è un casino, lì, è un casino a quelli che ci rompevano i coglioni per due anni e la Juventus in serie B e cosa rischia la Juventus e tutte quelle puttanate che ci hanno fatto in due anni ci hanno massacrato i coglioni perché queste cose qua bisogna dirle, no? giusto? al Milan, almeno in minima parte, sta succedendo quello che succede alla Juventus gli arriva la guardia di finanza per controllare Elliot, se il Milan è di Elliot chi è il proprietario del Milan, il Milan che compra il Milan vanno a spulciare di certe determinate carte da noi uguale cercare la carta di Ronaldo, la curva e tutto, 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 tutto e plus Valenze che poi risulta sempre tutto regolare perché poi la Juventus viene assolta però intanto ormai ci hanno punito perché io batto sempre lì a noi ci hanno rotto il cazzo ci hanno punito no? perché adesso tutto quanto va in archiviazione il processo da rifare che rimangono ancora a metà robe ma lì vedrete che andranno avanti anni, anni, anni sul Milan, sapete come andate a finire? i milanisti hanno ragione di incazzarsi chi è il mandante? chi è il mandante? dopo che quell'altro è andato a pranzo col capo di Milano che è pieno di magliette allora cominci a farti un'idea di tutte queste cose qua ma torniamo sempre al punto cruciale perché da noi vengono sempre a controllare e anche dal Milan ma anche in qualche altra squadra vanno a controllare solo che non viene messa sul giornale perché è un po' più di basso rango confronto a quelle tre là però qui non si riesce a capire di chi cazzo è l'Inter ditemelo voi vi lascio con questo quesito perché si parla di debiti di Zhang i debiti di Zhang però questo qua, vi ripeto si fa prestare i soldi se tu ti fai fare un prestito devi avere delle garanzie giusto? questo qui avrà dato come garanzia all'Inter ma come può dare garanzia all'Inter se lui è nulla tenente? ci avete mai pensato a sta roba qua? poi adesso cominceranno a parlare e fatti i cazzi tuoi e no ogni tanto bisogna parlare di queste cose qua perché noi ci avete fatto due coglioni così invece voi sempre con i vostri magheggi sempre con le vostre porcherie riuscite sempre a scapolarla sempre a scapolarla e questo che... allora come dice lo zoccolo duro perché lo zoccolo duro ha ragione questo questo è da chiarire per la regolarità del campionato per la regolarità del campionato perché come dice lo zoccolo duro noi ci hanno lasciato fuori dall'Europa League per cento luni di milioni questi qua fanno quel cazzo che vogliono ma non lo dice solo lui lo dicono tutti e ti girano un po' le pale per la regolarità del campionato vi rifaccio la domanda e poi vi lascio di chi cazzo è questa Inter? se quello lì vi ripeto nulla tenente non c'è niente di ciò quello lì non c'è neanche un euro per andare a bere un caffè bacione a tutti belli e brutti iscrivetevi al canale ancora buona domenica ci vediamo la prossima mi raccomando un saluto da JJ mi raccomando sempre pollicione e campanellina ci rivediamo la prossima faremo i video più lunghi quando mi sistemano quell'altro pc perché con questo qua vedremo vedremo il da farsi dai ragazzi ci vediamo la prossima vi sono contento perché eravate in tanti ieri grazie ragazzi grazie ci vediamo la prossima ciao e fatti bravi